se notate un'altra cosa è che quando io clicco il sign in e quindi sono già nella pagina mi piacerebbe fare in modo ad esempio che l'utente sappia che sono nella pagina di sign in ok quindi che sono in questa pagina per far questo c'è un'altra property un'altra direttiva dove ad esempio nel sign in eccolo qua possiamo mettere root e se bisogna prima di andarlo importare lo andiamo a importare router link router link active questo ci mette a disposizione questa direttiva che adesso andremo usare e vi spiego che cosa serve e qui ci mettiamo active tra virgolette e anche qui facciamo la stessa identica cosa che fa questa direttiva non fa nient'altro se la pagina che stiamo visualizzando è uguale a quella definita nel router link ci aggiunge all'elemento in questo caso la a e la classe active quindi ad esempio qui nel nostro css possiamo mettere punto active abbiamo ai wind e possiamo mettere un color e tex slate magari un po più scuro andiamo a vedere se è vero andiamo a salvare e ovviamente neanche neanche questo funziona color due punti red important vediamo un po a così lo prende è un problema di css strano vero rifacciamo senza l'important vediamo eh eh sì c'è uno stile che sovrascrive tutti quanti gli altri ok perfetto però vedete se adesso io switcho diventa rosso il link attivo e a me è bastato soltanto mettere il router link active ovviamente la stessa cosa potrei farla su sull'out no cioè sulla pagina di login potrei fare la stessa intima cosa per evidenziare ma non avrebbe molto senso perché qui ti rimanda un'altra pagina quindi qui non ha non ha proprio senso ok quindi riloghiamoci puoi applicare l'important su tywind si e te lo faccio vedere subito ah forse graffa punto esclamativo important vediamo poi ce l'abbiamo fatta bravo valerio vedete e fortuna che c'è la chat Grazie a tutti.